Sono attualmente 1.340, due ogni mille, le famiglie residenti nelle Marche che beneficiano del reddito di inclusione sociale. Le persone coinvolte sono 3.341,22 ogni 10.000 residenti e l'importo medio mensile del sostegno economico è di 256,74 euro, dati al 23 marzo scorso. È quanto emerso durante la conferenza stampa organizzata in Regione a cui ha preso parte, tra gli altri, il governatore Ceriscioli. Dal prossimo 1 luglio, grazie alle risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio 2018, il REI diventerà universale, verranno cioè meno i requisiti familiari e resteranno solo quegli economici. Centri per l'impiego, ambiti sociali, servizi sociali comunali curano la presa in carico dei beneficiari, in modo da permettere loro una prospettiva duratura di fuoriuscita dalle difficoltà. Nelle Marche sono attivi 226 punti REI, dove reperire informazioni ed essere assistiti nella presentazione della domanda. La questione fondamentale è che finalmente partita in Italia, lo aspettavamo da 30 anni, una linea di intervento di sostegno al reddito unica per tutta Italia. La normativa nazionale prevede che sia considerato un livello essenziale e quindi d'ora in poi sarà un livello essenziale da garantire alle famiglie che si trovano in situazione di povertà assoluta. Dopo un anno e mezzo di sperimentazione, siamo partiti col vero e proprio REI dal primo gennaio di quest'anno, stiamo cominciando a raccogliere i primi dati, che sono dati importanti, che ci dicono che questa linea di intervento va continuata, va rafforzata, va potenziata, va fatta conoscere, perché ci sono situazioni probabilmente di famiglie che avrebbero diritto ma che non hanno fatto domande. Per quello abbiamo voluto fare una conferenza stampa per dire a tutti i cittadini marchegiani, guardate, abbiamo attivato dei punti di accesso REI su tutti i comuni delle Marche. Rivolgetevi perché lì vi sanno dare le informazioni per capire se in base alle vostre caratteristiche, in base alle caratteristiche previste dal tricchetto nazionale siete titolare a presentare questa domanda. Dopodiché saranno sempre i servizi sociali dell'ambito insieme ai centri per l'impiego a farsi carico per sostenere la situazione di povertà e per cercare di trovare le modalità più idonee all'inclusione lavorativa per uscire da questa situazione di povertà in modo che il contributo che ha cominciato a essere distribuito alle famiglie venga utilizzato per un periodo limitato di tempo e non ci sia una dipendenza del contributo da parte delle famiglie povere. Il sostegno economico massimo previsto da un minimo di 187 euro fino ad oltre 500 euro mensili è diverso a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e delle risorse di cui la famiglia dispone. Viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il progetto personalizzato con i servizi sociali del comune di residenza, in base al quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività e impegni individuati dagli operatori sociali. Per fruire del REI occorre avere un'attestazione di 6 in corso di validità.